Ho visto solo coda, chiusi i negozi, banche, farmacia, situazioni come prima di guerra, non c'è benzina, acqua, cibo, niente. La città è morta, nessuno. Ola ha così deciso di lasciare la sua città, una città ormai fantasma, per sfuggire dalla guerra, un lungo e difficile viaggio, il suo dall'Ucraina sino a Cortona. L'Ucraina ha già visto sangue, ha visto morti, abbiamo visto tante cose per l'ultimo secolo e sempre con quel paese che è vicino di noi. Allo scoppio della guerra, gli amici in Italia hanno iniziato a preoccuparsi per lei e a contattarla. Assiduamente dicendole che guarda la situazione sta peggiorando, vai via, vai via. Così la decisione di lasciare Leopoli e l'Ucraina. Tutti hanno non paura, tutti hanno shock. Questa è un'altra cosa, paura è una cosa, shock è altra cosa, paralizzato tu non... Un viaggio durato giorni senza acqua e senza cibo, Ola è riuscita a prendere una delle ultime auto della piattaforma BlaBlaCar. Con due ragazzi che andavano con bambini. Prima tappa Cracovia, poi Bologna ed infine Cortona. Qui ad attenderla gli amici di vecchia data, Simone e Camilla. Già quando ho sentito che era al confine italiano, poteva essere ovunque e bastava. A Leopoli, Ola ha lasciato gli affetti ed il suo laboratorio artistico. È infatti una fermata ceramista e da ormai 15 anni lavora tra l'Italia e l'Ucraina. È importante stare insieme e creare qualcosa a fare per il futuro, ogni persona fa per la sua vita e così possiamo fare una fortezza.